Oggi posso dire di essere stata reintegrata, mi è arrivata una mail del Comitato di Garanzia dove mi diceva che veniva revocata la mia espulsione, anche perché in questo anno tutte le azioni che sono state portate avanti erano alcuni punti del programma che avevo promesso ai cittadini e quindi concordati chiaramente con la maggioranza e la giunta siamo arrivati a dei punti condivisi, è iniziato questo lavoratorio politico che ormai conoscete tutti e insieme anche ai consiglieri del Movimento 5 Stelle e la maggioranza sono state portate avanti le tematiche. Con il nuovo quadro politico sicuramente loro hanno valutato che la situazione è cambiata nel Movimento 5 Stelle, è un Movimento 5 Stelle innovativo, diverso, che dialoga non è più quello del Waffa Day e quindi la maturazione che abbiamo avuto in questi anni porta anche a considerare di prendere altre strade. Sì, nella lettera avevo messo e allegato tutte le delibere che ho fatto in questo anno, circa 52, dove appunto dimostravo che il mio lavoro è stato serio e per il bene dei cittadini. Tra i progetti principali, quello dell'università, lavoro che ha toccato vari punti in quest'anno di esperienza ed assessore. Sì, il discorso dell'università, proprio questa mattina ho avuto una riunione, tutto il progetto si sta evolvendo, ci crediamo, ci crede tutta la giunta e quindi andremo avanti con nuove tematiche, nuovi corsi. Oltre a questo c'è anche l'innovazione, la digitalizzazione, come avete visto, aprirà anche uno sportello digitale, il digital care che aiuta le persone che non sono capaci a utilizzare gli strumenti online. Questo è fondamentale, la politica spinge verso la digitalizzazione, è giusto accompagnare le persone perché nessuno deve rimanere indietro. Questo è il nuovo modo di fare politica pensando solamente al bene dei cittadini.